Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. Grazie. 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 e moze mi se bre vadi ga bre stai o si tuzati vede un resto bre stai o io ti reiki taj jugo Sì, 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 sì. No parta di soli! No parta di soli! Sì, da me mi piace, fa che! Non parta di soli! Non parta di soli! Pagli! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.